Poi il Lazio è venuto a Napoli, si pensava che sia il partito contro noi, si pensava di vincere, guardate la calla qui lì, sta ancora tutta stupitiata, pensava che ce ne facevamo tre, ma invece ne abbiamo fatto quattro, sta togliata i scuorni, ma ero va avviato, ero va avviato.